Ciao dolcezze, nuovo video, brevissimo per dirvi, per dirvi, scusate la televisione sottofondo, voglio dirvi che domani sera, venerdì 16, 16 dicembre, dalle 8, massimo 8 e mezza, fino a mezzanotte, voglio fare una live su questo canale ASMR, c'è poca luce di sera in casa mia, ma voglio augurarvi, diciamo, fare una live prenatalizia, visto che poi la prossima settimana sarà già Natale, c'è una luce gialla, scusate. Spero vi interessi, spero che ci siera, ci sarete, scusate non riesco a parlare, non so se domani userò il cavalletto, se tengo il cellulare in mano, quindi sarà super mosso, comunque spero che ci sarete, anche poca gente va bene lo stesso, non bisogna avere per forza mille persone, ma spero che ci sarete, sarete in tanti, insomma, a commentare, a non farmi domande private perché non vi rispondo, e a domani sera ci sentiamo, ci vediamo su questo canale ASMR col microfono, sarebbe meglio mettere il microfono, scusate il poco previso, a presto.